Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Dopo 12 giorni di misteriosa scomparsa nel nulla, il corpo senza vita di Rossella Cominotti, 53 anni, è stato ritrovato in una camera d'albergo a Mattarana, frazione di Carrodano, nella provincia della Spezia. La tragica scoperta è stata fatta dal personale delle pulizie, segnando la fine di un allarmante periodo di incertezza. La vittima è la 110ma donna ad essere vittima di femminicidio in Italia nel corso del 2023, secondo gli inquirenti, per mano del coniuge, Alfredo Zenucchi, 57 anni. L'uomo è stato rapidamente fermato in lunigiana dopo una breve fuga e ha confessato il delitto ai carabinieri. Il cupo mistero avvolge le motivazioni dietro questo tragico gesto, poiché sembra che la coppia avesse pianificato di morire insieme. Tuttavia, dopo aver ucciso la moglie, Zenucchi non è riuscito a togliersi la vita, optando per una fuga. Il movente rimane oscuro. Il luogo del delitto rivela una scena scioccante, con il corpo di Rossella trovato senza vita sul letto, colpito ripetutamente con un rasoio a mano libera, che sembra essere l'arma del delitto. La coppia, proprietaria di un'edicola a Bonemerse, Cremona, era scomparsa da circa due settimane, suscitando preoccupazione tra amici e parenti. La tragica scoperta ha messo fine alle speranze di ritrovarli sani e salvi. La comunità, sconvolta dal dramma, riflette sulla chiusura riservata della coppia, definendoli persino schivi. Nonostante la loro attività di edicolanti, erano estranei ai vicini, e la loro casa sembrava abbandonata da mesi, alimentando speculazioni su eventuali problemi economici. Mentre emergono dettagli sulla loro vita privata, la vicenda getta una luce inquietante sulle dinamiche nascoste dietro le porte chiuse di una coppia che, agli occhi dei vicini, appariva strana e silenziosa.